Allora direi, mamma, è discutibile, ma è questione di una madre, vergine, marina. Ogni sera dal balcone attendiamo l'attrazione, lei si sfoglia lentamente, ipnotizza corromente, ci regala prima i fianchi e poi i seri prepotenti. Poi si cala le mutande e noi siamo mezzi morti, poi si volta ed il cuore più veloce ne risente. La matista incompresa e su tutti noi fa presa e controlla abilmente lo spettacolo e la gente. Poi qualcuno grida forte e il demonio se lo prende, è un altro nudo dal balcone, pare tazza con la pure. Oh 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 Ma cos'è in fondo la musica? Una sega di sentimenti Stitulo un attimo E due donne del palazzo Ha raccolto Ora le firme Ha morato La finestra Che ci dava L'emozione Ogni tanto Dal banchone Gli occhi tornano Passa via E tutto Come il cazzo in mano Andarono a viva certosa Non con i cartelli di proteine Magari faccio la vede anche a noi Quattro 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 Grazie a tutti.